Ciao, sono Carla, sono una pensionata viaggiatrice. Sono appena tornata dal tour delle città imperiali di Pasqua in Marocco, realizzato con Arquet Travel. La nostra guida era il signor Khalid, che ci ha guidato con perizia e anche sagaccia in tutti i luoghi più interessanti da visitare delle bellissime città del Marocco. Noi ci siamo trovati tutti benissimo, il vito era ottimo e anche gli hotel sono stati veramente esemplari, splendida qualità. Mi sono piaciute molto le città che abbiamo visitato, i luoghi caratteristici. In particolare mi è piaciuta la visita agli scavi di Volubilis, pensare che gli antichi romani 2000 anni fa erano arrivati fino laggiù a portare la civiltà latina. Poi mi è piaciuta tantissimo la visita del souk a Fes e poi della grande piazza di Marrakesh. A Marrakesh abbiamo anche partecipato ad una serata folcloristica con la danzatrice del ventre e con i suonatori, in una riad. E quindi è stato un viaggio completo ed esauriente. Io spero di viaggiare ancora con Arquet Travel, perché è stato un viaggio ottimo. Grazie!